Rieccoci insieme con il Biancherosso TV Sport, ripriamo le telefonate 080 501 9998, anzi se facciamo prima delle telefonate sentiamo cosa ha detto Torrente dopo la gara contro il Grosseto, così facciamo un passo indietro, ogni tanto ci distraiamo, perché ormai è il caldo, la partita diventa un momento di distrazione, nient'altro che questo. Torrente cosa ha detto dopo la partita con il Grosseto? Nel primo tempo po' contratti, abbiamo sbagliato molto nel fraseggio a centrocampo, poco propositivo sugli esterni, mi riferisco ai due difensori esterni Cavanda e Garofalo che dovevano creare la superiorità numerica, l'abbiamo fatto poco, nel secondo tempo invece meglio, grande reazione, abbiamo messo il Grosseto alla loro metà campo, potevamo nel secondo tempo anche vincere la partita, se durava ancora un altro po', potevamo fare la nostra, nell'arco dei 90 minuti penso che il pareccio ci va anche stretto. Settimana scorsa a Bellomo, quest'oggi Galano, due splendidi gol, due giocatori a volte messi in discussione, però alla fine ha avuto ragione, li ha fatti crescere piano piano e stanno venendo fuori e stanno anche ottenendo risposte sul campo. Ragazzi che ha la prima esperienza in un campionato così importante come quello dell'AB, alternano ottime prestazioni e prestazioni meno buone, ma è normale, una volta che troveranno continuità saranno giocatori importanti per il Bari, ma lo saranno sicuramente per il futuro. Con i playoff ormai lontani che ruolo può regitare il Bari in questo finale di campionato, soprattutto ora vi attendono gare con squadre di un certo spessore? Mi ripeto, fino alla noia mi prenderanno anche per matto, noi dobbiamo continuare fino alla fine a far punti il più possibile e far bene, questo è il nostro obiettivo. Poi vediamo alla fine quanti punti abbiamo fatto, siamo stati bravi, capisco anche lo stato d'animo dei tifosi, tutto quello che sta succedendo, però ringrazio chi è venuto allo stadio e sostenuto la squadra, la squadra ha cercato di regalare una vittoria per una buona Pasqua, non ci siamo riusciti ma ci abbiamo provato con grande impegno e come ho detto prima facendo un grande secondo tempo. Questa è la considerazione di Torrente, c'è un amico in linea, pronto? Pronto, buonasera. Eccoci, ciao. Magnarini, Romani e Gariboldi, Mazzon, Seghedone e Cappa, De Roberts, Catarano, Erb, Conde e Ciconi, Gigi Frisini, Frena, Tonino Lopella, Pelède e Pascal, Gianjuicchi, ci siamo? Sì, è chiaro che ci siamo. E Lorenz Cattacchi. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo? E questo era ieri, oggi abbiamo tra le mani quello che abbiamo tra le mani, cioè una società che non so se esiste ancora, una squadra di calcio che bene o male ci tiene, diciamo in piedi, ci dà quel lume di speranza. Sì. E detto in parole nostre, è credo che c'è Giarmà, che non può me dare, ci può usare. Grazie per la tua saggezza a Marese, Gigi. Grazie a voi, grazie a voi. che sicuramente con il calcio di oggi avrebbe avuto la possibilità di poter risolvere tranquillamente in A e in A o in B. Se consigli che Sciacovelli in quel periodo, dopo una grande partita contro il Gemini, fu osteggiato da un giornalista che andava per la maggiore, dicendo che era a basso, secondo quel giornalista Messi doveva andare a servire la Messi in questo momento. C'è una amica in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Stefano Degliapigia. Ciao Stefano, grazie. Senti Enzo, ma Angelotti, ok, non voglio sostituirmi i magistrati, però se effettivamente ha detto Gigliet, tappatevi le orecchie e continuate a giocare, cioè con quale coraggio tenerla ancora alla guida della società, a organizzare il mercato del Bari e soprattutto, qualora venisse confermata che di Ultras si sono giocati le partite, che costa un'ora e Cisina, con che coraggio loro hanno anche organizzato quella manifestazione all'Oscera, fanno tutte quelle belle parole, ci teniamo alla maglia del Bari, insomma un po' di coerenza non vuole sempre. Vabbè, qualora venissero confermate ci sarebbe molto da dire, ora aspettiamo, come dici tu, che vengano confermate queste ipotesi perché ci sarebbe molto, ma molto, ma molto da dire, fai bene a dire. Per cui riguarda Angelozzi anche in questo caso, l'ha detto Gigliet, ma la cosa va in qualche modo confermata, probabilmente non si denuncia tutto quello che accade, insomma, a volte i giocatori sono oggetto anche di sberleffi da parte dei tifosi, qualcuno che magari all'antistadio e non per questo uno va a denunciare, magari questa situazione è un po' diversa, se a Gigliet per appunto ha spiegato per spiegare per segno ad Angelozzi quello che stava bollendo in pentola, restando che Angelozzi dice a Gigliet di mantenere un profilo altamente sportivo, dice giocatevela, tappatevi le orecchie e giocatela, però nella giustizia sportiva l'ho messa a denuncia, è anche un fatto piuttosto grave. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Michele Danoicattro, un saluto a Frisino, vorrei farti una domanda che non c'entra niente, voi quando passate al digitale terrestre? Il digitale terrestre, per obbligo si passa a giugno il digitale terrestre in maniera obbligatoria, adesso a Bari noi andiamo anche sul digitale terrestre e anche in altri centri, però obbligatoriamente è perché comunque è una fase ancora sperimentale, però da giugno obbligatoriamente passeremo sul digitale terrestre e da gennaio avremo anche degli obblighi molto precisi rispetto a una programmazione dettata per le nuove esigenze, però vi teremo informati su questo aspetto, peraltro mi hanno scritto alcuni di difficoltà in questo momento a riceverci a Casa Massimo, a Rutigliano, in altri centri del sud barese, quindi probabilmente c'è qualche problema in questo tipo che proveremo ovviamente a risolvere, proveremo a venire a capo. Grazie comunque per il tuo intervento e per averci segnalato. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, non abbiamo le immagini di Masiello che esce dal carcere di Bari, possiamo vedere queste immagini per cortesia così le contestualizziamo in un aspetto di cronaca, visto che le abbiamo e eravamo in pochi quella sera lì a fare le immagini e qui tra poco vedrete le immagini di Andrea Masiello, si apriranno i portoni e Andrea Masiello, fuori peraltro c'erano anche dei tifosi ad aspettare, tra poco vedremo per l'immagine di Andrea Masiello che esce dal carcere di Bari ottenendo così i domiciliari, qui c'è gente che gioca parola e qui c'è questo striscione, avete umiliato i nostri colori, venduto la nostra maglia, ammazzato la nostra passione e ridicolizzato le nostre lacrime, Bari vuole giustizia e non questa, ma questa è la macchina dove va via Andrea Masiello peraltro scortato da due pattuglie, queste sono le immagini dell'addio di Masiello al carcere di Bari. 080 501 9998 E' andata direttamente a Sanremo, dopo aver cantato la tromba di andare a Sanremo 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, pronto? Pronto carissimo Enzo, oltre buona Pasqua a te e al simpatico Gigi, sono Rocco Ciao Rocco, ciao caro, ciao Ed è sempre un piacere sentirvi, sapete perché? Rappresentiamo in un mondo piuttosto ladro, per alcuni versi, non diciamo altro almeno la faccia pulita, la speranza che il Bari possa risorgere, Enzo e Gigino, voi rappresentate insieme ad altre persone come me, scusate altri, che vogliono credere nello sport che non gioco pulito al 90% ma al 100%, continuate così, tutto a ballare vi seguirà, ciao Enzo, c'è ancora buona Pasqua Grazie Rocco, sta telefonata mi piace, molto bella dai, dà un senso magari a chi come noi mostra magari una faccia ingenua, qualcuno ci prende per, siamo dei fessi perché continuiamo a parlare, a credere, però voglio dire ad esempio chi scende in campo in questo momento questo Bari dà ad esempio l'idea di essere estremamente pulito e vero, con i suoi limiti ma pulito è vero, quindi proviamo a credere in qualcosa di positivo. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, intanto Cristian Siciliani dovrebbe essere tornato con la conferenza stampa tenuta oggi da De Falco, De Falco che ha trattato anche l'argomento calcio scommesso e poi ha fatto dei riferimenti sulla presenza di pubblico al San Nicola, se siamo pronti dalla regia io andrei con De Falco, non vedo il ritorno dell'immagine, non so se possiamo andare adesso oppure dobbiamo aspettare qualche istante, altrimenti prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, auguri a te. Grazie anche a te. Grazie. Senti, ho visto che hai fatto vedere anche le immagini di Marcello che esce dalla cassa di reclusione, volevo chiedere un tuo commento, chiaramente sempre con tutte le attenzioni e quello che è dovuto, sulle dichiarazioni che ha fatto Antonello Raimondo in ordine a questo suo contatto con Belavista e con Contes, penso che tu sappia cosa abbia dichiarato Antonello. Guarda, stamattina Antonello ha precisato anche questa posizione a Radio Bari, ha spiegato esattamente qual è la sua posizione, non so se possiamo sentirle queste dichiarazioni di Antonello Raimondo e poi magari le commentiamo perché vorrei sentire esattamente prima di esprimere un commento, però Antonello Raimondo con molta sincerità, con molta onestà ha detto come sono andate le cose in quel contesto, quindi magari se riuscissimo a recuperare queste dichiarazioni, altrimenti le faremo riascoltare domani. Per l'altro Antonello ha chiesto anche spazi ad alcuni giornali, l'ha letto anche sulla Gazzetta dello Sport dove ha precisato esattamente la sua posizione rispetto a questa vicenda. Poi giudicare non è mai il caso, ognuno si faccia una propria idea perché in questo momento quando parliamo di vicende che sono al centro di un'inchiesta, quella di Antonello non lo coinvolge direttamente in prima persona ma come saprete per l'SMS inviato, insomma è giusto che ci sia una giustizia, scusate un gioco di parole, che possa in qualche modo prendere una posizione e decidere, non dobbiamo essere noi a sostituirci ai giudici, che ognuno si faccia una propria idea, a mio avviso Antonello bene ha fatto a precisare esattamente quello che è accaduto. 080 501 9998 per la vostra telefonata in diretta su Telebari e Radio Bari, non so abbiamo un amico in linea pronto? No, che facciamo? De Falco? De Falco, sì, De Falco. Adesso ti dico sì, denuncerei perché hai visto tutto quello che è successo, non rischierei magari di non dire una parola per poi rischiare di perdere il mio lavoro, magari prima non c'era questa paura perché tutti pensano sì ma ti pare che succede, penso che sia stato così il discorso. Da adesso la gente che ha sbagliato ha pagato, pagherà e quindi penso che da ora in poi il margine d'errore diminuisca. Già il calciatore è un po' visto comunque, sai il calciatore con i soldi, poi se è giovane, belle ragazze, la macchina, già comunque il calciatore sembra una categoria brutta, cattiva. Adesso con questo scandalo è un motivo in più per alcuni per parlarne male. Noi dobbiamo solo cercare di fare il nostro lavoro con la massima tranquillità ed essere il più possibile un esempio per chi ci segue. Chi ha sempre fatto bene deve continuare a fare come ha fatto. È normale che poi ci sarà sempre qualcuno che se vuole parlare male parlerà sempre male. Tu non puoi mai cambiare l'idea o il pensiero di una singola persona, però devi fare in modo di essere con la tua coscienza a posto. Sicuramente tutti i scandali, tutte le cose successe quest'anno intorno alla società ha un po' condizionato il tifoso nei nostri confronti. Noi è normale che un po' di calore in più ci avrebbe fatto bene, penso ci faccia bene. Non possiamo chiedere al tifoso comunque di venire allo stadio se non se la sente. Noi cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di farci amare. Abbiamo fatto partite dove meritavamo qualche applauso in più, abbiamo fatto partite dove ci siamo meritati invece i fischi. Penso che comunque se dei tifosi vengano allo stadio per amarci, per applaudirci, noi siamo contentissimi.